Sistema 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 Maestro se ci può parlare del suo sistema Se potete dire due parole di sistema? Descrivere agli appassionati L'organizzazione arti marziale di antica Russia Però quando si parla di antica Russia Non si parla della Russia pre-cristiana Ma la Russia già cristiana Noi studiamo anche la tradizione marziale russa Vecchi antichi combattenti e guerrieri E poi facciamo anche la diffusione La diffusione della storia E allineiamo la gente secondo questo metodo antico Grazie Avete dato la canzone Dopodiché, date il rilassamento. Ma non andarlo di prezzo. Allora, tu puoi dire anche due parole su cosa senti e cosa hai sentito? Per favore, non andate di fretta. Ma per favore, non andate di fretta. Non andate di fretta. Oh-oh! Oh-oh! Con forza! Headless! Un po' bello! Un po' bello! Un po' bello! Ma ora, osservate qui! Vedete qui il punto debole e il comito! Maestro, volevamo sapere se queste tecniche sono utili appunto per l'autodifesa. Si, ma sono... Ci sono tanti reparti speciali che si adestano utilizzando questo metodo. Anche all'estero, in Germania, in Canada, negli Stati Uniti, ovviamente anche noi. Io personalmente sono stato ufficiale di un reparto particolare. Sono stato in guerra. Ho partecipato alla liberazione degli ostaggi. E' stato un grande aiuto nella mia carriera operativa. E anche nella vita. La nostra arte marziale non è competitiva. E' stato un modo per vivere in un ambiente ostile. E che la persona non resta malvagia, non resta agressiva. Perché normalmente le arti marziali si presumono che c'è comunque un'aggressività e un comportamento violento di base. E chiediamo al maestro come metodologia, se si lavora molto appunto sul corpo a corpo, sulle leve, che tipo di lavoro? Per quanto riguarda la metodologia, con cui più lavorate? Brascova, tecnica, udari, перelomi, загибi? Abbiamo la tecnica molto variata, abbiamo sia la parte corpo libero, sia la parte di lotto, la parte con le armi, con presse armi da fuoco. Qualsiasi cosa che sta nel mondo, dobbiamo sapere che esiste e dobbiamo cercare di avere un antidoto per qualsiasi anno. Ma questa è la domanda, la domanda è una possibilità di essere sentita, però ci sono i nostri amici, quindi ci sono i nostri amici. E allora ci sono i nostri amici, possono essere sentita, ma è un'altra domanda, ma è un'altra domanda, ma è un'altra domanda. se non può essere possibile ok se non può essere possibile quando si vede sulle mano se si vede più veloce sulle le forex sulle le forex si vede più veloce si vede più veloce Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.